Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale Raga oggi siamo ritornati in un nuovo video di Clash Royale Raga dove andremo a giocare nella nuova stagione con il mio secondo account gas Raga in 2v2 Allora adesso raga penso che manderò l'invito Nel canno, mando l'invito al tablet Esatto, in un sito gas nella partita in v2 Ok raga Sto giocando sia dal telefono che dal tablet L'altro canno che ho il tablet Che è questo dico e qua raga Allora, quindi devo giocare sia dal telefono che dal tablet Raga, sarà tosta Quindi penso che perderemo Infatti dopo quando ci giocavo Perderò praticamente perché è tosta Spero sia nanzi così Bravi Non dovrebbe creare problemi Questi mi sembrano Non scarsi Questi come li fermiamo adesso Questi che non li fermiamo Ok, ho col pecca O col coso E dai Quando che ci mettete Tostostostissima E' tosta Bravo Proteggimelo Oh cavolo Oh cavolo Oh no Allora tu metti questo E hai metto questo Bene Guarda che ci cosa perdiamo Vai Non lo facciamo vincere c'è tostissima forse guardiamo dice 0 questo è questo del cordiano una corona l'abbiamo fatta però cioè io apprezzo con la corona l'abbiamo fatte che poi si perdiamo penso che sia normale perdere costo del corso non vincere ci stiamo provando ci mi chiedo questi che hanno fatto ancora non vincere guardate raga cioè noi abbiamo perso ecco infatti vabbè raga alla prossima ok raga in tempo in tempo in tempo siamo riusciti a vincere 2 a 1 raga finalmente non ve l'ho fatta vedere raga perché mi sarà bugata la registrazione in realtà comunque abbiamo vinto a me le corone ok me l'ha date finalmente perché si era bugato comunque raga abbiamo vinto 2 a 1 all'ultimo stavo perdendo se volete raga vi faccio vedere il come abbiamo fatto raga guardate come abbiamo iniziato per vincere però la faccio vedere dentro il bambino ne ho e il replay raga praticamente come abbiamo vinto c'è loro non è stato col pecc e con lo stregone guardate mi sarà bugata mobili quindi comunque in realtà non è stata bugata la registrazione nel telefono che stavano in tilt anche per la linea quindi comunque ho fatto il replay raga guardate come abbiamo agito qua abbiamo fatto tantissime cavolate però raga ce le siamo portate a casa proprio alla fine eh stiamo perdendo comunque guardate cosa abbiamo combinato comunque anche il gas in arena 5 raga l'altro account mio eh l'ho fatto rivolgere ieri siamo in arena 5 guardate che l'hanno lasciato il pecca e ha fatto la torre perché hanno lasciato stare problemi loro va bene poi noi raga qua abbiamo cominciato un po' sventarci un po' in realtà a fare più cosino possibile infatti guardate qua adesso io ho messo questo gas aveva fornace un secondo account non so perché non mi ricordo comunque tutti e due hanno il super seller l'ho fatto qua ho provato a mettere cosa mi ha mandato mi ha mandato a buon fine guardate qui cosa è successo l'ho fatta un po' infatti guardate qua qua mi si era buggato il refresh raga mi stavo incavolando perché il refresh me l'ha fatto buttare prima guardate che fa il pecca e la fa anche la torre voglio adesso qua butto il congelamento per non rischiare in realtà ah no invece no ah si la butto guardate quello che fa riesce comunque a fare la torre e guardate adesso guardate come allora lui va contro la torre gli fa un botto di danno guardate questo qua in realtà qua pensavo di aver perso invece quando ho buttato il gran cavaliere stavamo un po' guardate qua ho buttato quello se mangio da tutto la mongolfiera ci ha salvato letteralmente le chiappere guardate che ho fatto c'è stata lei guardate uno due e ci ha buttato il coso perché l'ho fatto più qua stavamo rischiando guardate qua qua ho congelato guardate quanto guardate guardate raga c'è soltanto un hit così abbiamo vinto raga guardate c'è all'ultimo così cioè raga proprio una battaglia assurda comunque raga chiudo quindi abbiamo giocato con il mio secondo account gas raga che è a 1315 coppie ed è a livello del re 7 raga vi faccio vedere aspettate provarci ecco gas visualizza profilo guardate questo è quel deck raga gli ho messo questo ecco potrei anche cambiare in realtà qua di solito sfida non gioco mai comunque il video termina qua grazie a tutti della visione mi raccomando raga se non siete iscritti iscrivetevi per non perdere altri video raga che farò a caso mai le live o poi tutti i video che farò in futuro e seguitemi su instagram raga e su tiktok avete anche se volete fare una donation raga molto importante per il canale link in descrizione e niente raga ciao 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 ciao